Benvenuti nel mondo degli orologi U-Bot. U-Bot è un marchio italiano di orologi di lusso fondato nel 2000 dall'italiano Italo Fontana. Il nome U-Bot fa riferimento ai sottomarini tedeschi della Seconda Guerra Mondiale chiamati U-Boot, abbreviazione di Untersebut. Il design degli orologi U-Bot si ispira infatti allo stile dei sottomarini e degli strumenti di misura utilizzati dai sommergibilisti di quel periodo. Gli orologi U-Bot sono conosciuti per le loro caratteristiche distintive, come la corona di carica posizionata sul lato sinistro della cassa, la grande dimensione della cassa stessa, spesso superiore ai 50 mm di diametro, e l'uso di materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, il titanio, il bronzo e il ceramica. Il marchio produce orologi con un design audace e distintivo, che si distinguono per la loro forte personalità. Alcune delle collezioni più famose di U-Bot includono. 1. Classico Questa collezione comprende orologi con un design semplice e pulito, con cassa in acciaio inossidabile e quadrante nero o marrone. Gli orologi della serie Classico sono disponibili in diverse dimensioni e con varie complicazioni, come il cronografo o il GMT. 2. Chimera Gli orologi della serie Chimera si distinguono per il loro design aggressivo e per l'uso di materiali innovativi come il bronzo e il carburo di titanio. Questi orologi sono spesso dotati di complicazioni avanzate, come il cronografo o il secondo fuso orario. 3. Capsule La collezione Capsule presenta orologi con un'estetica futuristica e un sistema di sospensione dell'olio che avvolge il movimento al quarzo, creando un effetto visivo unico e migliorando la resistenza agli urti. Gli orologi U-Bot sono apprezzati per il loro design audace e la loro robustezza, e sono spesso scelti da personaggi famosi e appassionati di orologi di lusso. Tuttavia, è importante notare che il marchio ha anche ricevuto alcune critiche per il suo prezzo elevato e la percezione di essere più orientato al design che alla meccanica sofisticata del movimento. Alcune delle funzioni avanzate presenti negli orologi U-Bot includono il cronografo, il GMT, secondo fuso orario, e il sistema di sospensione dell'olio presente nella collezione Capsule.